Salve! Salve, sono Marco Ucciero, agente Seminis e mi trovo ad Acerra, in provincia di Napoli. Siamo al 24 settembre e stiamo valutando un campo di lucex trapiantato il 15 di luglio. Stiamo parlando infatti di un cavolfiore precoce che ha la caratteristica importantissima di avere un corrimpo bianco brillante. In un periodo di difficile produzione, la pianta è molto sana, mediamente concentrata e dà dei corrimpi di ottima qualità e di grossa soddisfazione sia per l'agricoltore ma anche per il consumatore finale. Anche ad Acerra lucex continua a brillare. Un saluto a te. Un saluto a te. Un saluto a te.